Oggi presentiamo Poncio. Poncio è un cane di circa un anno, è arrivato non da molto tempo qua da noi, è arrivato in bruttissime condizioni perché era pieno di parassiti, era molto molto magro. Ora noi ce la stiamo mettendo tutta per fargli prendere un po' di peso. È un cane socievole, molto buono con le persone, è un po' testone perché si impunta, vuole fare abbastanza quello che vuole, però nel complesso è un buon cane, è un cane che è molto attivo, gli piace giocare, gli piace giocare con la pallina, gli piace giocare e annusare e andare a perlustrare ogni posto. Quindi è un cane adatto sicuramente a una famiglia attiva, una famiglia che ha voglia di prendersene cura e di giocare insieme a lui. Grazie a tutti.